Lei voleva cambiare la vita perché voleva stare con suo nuovo compagno, suo nuovo amore. Era felice di andare là in un posto bellissimo dove ha invitato tutti noi che un giorno possiamo venire a trovarla e quindi era contenta di andare là, era felice. Era una donna innamorata. Era una donna innamorata, esatto. Di quell'amore è rimasta solo la violenza più cieca, quando nella notte tra giovedì e venerdì scorsi Nicoletta Buliga Lupo, 51 anni di origini rumene, è stata massacrata coltellate dal compagno 54enne con nazionale Ioan Corbaceri, che poi si è impiccato. I due corpi sono stati trovati vicini dalla polizia spagnola nel loro appartamento di Castellon della Plana, città vicina Valencia. Nella penisola iberica Nicoletta si trovava dall'inizio dell'estate, qui con il 54enne aveva voltato pagina dopo 20 anni vissuti a Treviso. Fino a tre mesi fa la donna viveva in questa palazzina in zona Santa Maria del Rovere, con il figlio 26enne Emanuele, a poche centinaia di metri dal San Camillo, dove dal 2004 è stata infermiera strumentista in sala operatoria. Yolanda ha lavorato con lei per quasi 17 anni. Era una persona molto buona, molto tranquilla, molto serena e brava anche nel suo lavoro. È una ragazza solare, impegnata nel lavoro e molto disponibile con i colleghi e con la gente. Le foto condivise con amici e colleghi, anche via social, raccontano frammenti di vita apparentemente sereni. L'ultimo scatto, l'8 settembre. Fino a martedì scorso, sì, sì, mandava messaggi. Che cosa vi diceva? Che è tranquilla, che è un po' stanca perché lavora tanto, però è tranquilla e che un giorno ci sentiamo. Eppure la stampa spagnola parla di un uomo violento che abusava di alcol e forse non nuovo a maltrattamenti e violenze, un femminicidio che ha sconvolto anche la Spagna. A Castellon della Plana il comune ha osservato un minuto di silenzio. Accanto al sindaco e alle associazioni contro la violenza di genere, il figlio di Nicoletta Emanuele, ingegnere in una ditta paese, come si vede dalle immagini di Cadena Serra, una delle principali emittenti spagnole. Lo stesso silenzio che è calato sul San Camillo. Siamo tutti distrutti. C'è solo silenzio in tutto l'ospedale. C'è tristezza. Organizziamo una Santa Messa insieme con le sorelle e preghiamo per lei. Perché ci manca tanto, ci manca veramente tanto. E ci viene proprio da piangere. Scusate, ma non posso.